Dottor Perri è un'istituzione nel campo della pediatria, come è arrivato a questa specializzazione che è così particolare e che oggi non è neanche così ricercata, cioè è molto ricercata ma non così seguita dai giovani. Io ci sono arrivato sin dal tempo dell'università, negli ultimi anni dell'università ho frequentato il reparto di pediatria dell'università di Roma e lì sono rimasto anche un pochino dopo la laurea. Poi sono venuto a Macerata dove mancava un posto e sono prima stato assistente del reparto di pediatria di Macerata dagli ultimi anni 70 per poi specializzarmi sia in pediatria che in neonatologia e vincere un concorso di primario, ero in quel momento il primario più giovane d'Italia, quindi a 38 anni presso l'ospedale Tito Lentino. Da lì dopo 7 anni sono ritornato a Macerata e ho diretto la neonatologia e la pediatria e poi anche tutto il dipartimento materno infantile che comprendeva tutta l'area vasta, quindi anche i reparti che allora ancora esistevano ad esempio a Camerino San Severino e poi a Civitanova che comprendevano sia le pediatrie, le ostetrici, le neuropsichiatrie infantili e in un primo tempo anche i consultori, quindi un grandissimo lavoro. L'immagino. E com'è cambiato negli anni sia il lavoro che insomma le esigenze di questo tipo di... Il lavoro è cambiato in quanto sono cambiate anche il tipo di assistenza, ad esempio in un primo tempo non esisteva nell'ospedale l'H24, cioè la presenza 24 ore su 24 ore di un pediatra in tutti i punti dove c'era anche il centro nascita. Questo ha comportato anche un fabbisogno maggiore di medici e oggi ne risentiamo un po' tutta la problematica perché i pediatri sono in riduzione, molti sono andati in pensione, altri hanno lasciato l'ospedale, stanno nel territorio, però abbiamo veramente una carenza di pediatri perché non è stata fatta una programmazione adeguata sul fabbisogno, sul fabbisogno di questi come di altri professionisti della sanità e quindi ci troviamo oggi in notevole difficoltà. Vero è che da quest'anno e anche dall'anno scorso ma quest'anno soprattutto sono aumentate molto le borse di studio per la specializzazione in pediatria. Ancora quest'anno ce ne saranno 23 e questo però comporterà che il numero di pediatri da immettere nel lavoro specializzati dovranno passare ancora 4-5 anni. E i genitori sono molto preoccupati per questo perché comunque il pediatra è un punto di riferimento fondamentale soprattutto nei primi anni di vita ma anche dopo i 6 anni perché c'è questo passaggio dai 6 anni in cui si propone addirittura di passarli direttamente al medico di base, al medico di famiglia. In parte già avviene ed è possibile che un genitore decida di abbandonare l'assistenza pediatrica e di iscrivere il proprio pediatra al medico di famiglia con il modello un po' del family doctor che c'è nel mondo anglosassone. Però in tutti questi anni noi abbiamo avuto il vantaggio di avere nell'assistenza anche territoriale il pediatra che si è occupato del bambino dal momento della nascita fino a tutto il periodo anche adolescenziale, anzi si parlava addirittura di arrivare fino ai 18 anni non più nei 14 anni. Oggi purtroppo sia in meno, con il Covid pure si è reso necessario regolamentare meglio gli accessi, il che è diventato più difficile arrivare alla visita pediatrica perché spesso non dobbiamo riempire e sovraffollare gli ambulatori e le sale d'aspetto che creerebbero una situazione di pericolo di contagio. E quindi tutto questo sta creando un po' di problemi. Ci sono dei tentativi, il contatto con i genitori, come avviene? Sta avvenendo in tanti modi, si usa molto il Whatsapp, si usano molto le fotografie per vedere magari certe volte anche una gola di un bambino con le placche o delle alterazioni cutanee o anche piccoli filmati per vedere quando un bambino dopo un trauma cammina in un determinato modo, zoppica, ha un interessamento. Ma è chiaro che occorre sempre poi un contatto anche diretto o comunque di parlarsi tra il medico e il genitore perché certe volte anche queste immagini, cose se non si danno anche altre notizie, come sta il bambino, ci ha prurito, non ci ha prurito con questo sfogo eccetera, non sono sufficienti. Quindi occorre sempre avere un rapporto diretto tra il pediatra e il genitore. Comunque lei ci rassicura nel senso che nel giro di qualche anno forse le figure vacanti si saranno piano piano coperte? Sì, secondo me sì, potranno essere coperte. Ci sarà sempre il problema anche di vedere come si può avere una migliore continuità assistenziale. La notte, il prefestivo, il festivo si cerca sempre più da parte dell'utenza il contatto con un pediatra. Perché questi figli si ammalano sempre il venerdì sera? Gli ultimi anni, un po' è questo. Per i genitori lo possono testimoniare. Fino a tre anni fa ho fatto il pediatra ospedaliero e il fine settimana era un sovraffollamento del reparto di soggetti che volevano una visita. Alcuni erano più importanti, alcuni erano meno importanti, alcuni c'era solo forse da tranquillizzare un pochettino più i genitori. Nello stesso tempo però non si lavorava con tanta tranquillità perché magari avevamo un prematuro grave o una nascita di gemellari o il via dicendo e quindi anche noi cominciavamo poi a essere insufficienti e certe ore non potevamo assicurare più di un pediatra in servizio. Certo. E adesso che cosa sta facendo? Adesso sto facendo un'attività ambulatoriale pediatrica in un centro che abbiamo creato che si chiama Baby Physiomed in cui partecipano diversi specialisti che sono esperti in attività pediatriche che vanno dall'ostetrica al ginecologo all'ecografista all'ottorino che si occupa anche di allergologia. Ci sono poi naturalmente fisioterapisti, psicologi, psicoterapeutici, terapie della riabilitazione e anche logopedia. Con tutte queste persone si collabora e si può avere in un unico centro una serie di attività per i problemi di un bambino. Quindi noi andiamo dalla preparazione al parto fino ai problemi della nascita del bambino della prima e della seconda infanzia fino all'adolescenza, la preadolescenza e l'adolescenza. Quindi si tiene sempre allenato e con grande passione. Sì, mi piace molto continuare anche a studiare e vedere come si possa fare una pediatria che sia soprattutto utile e che abbia anche un compito, diciamo, pedagogista sulle mamme. Che devono imparare queste mamme? Ma devono imparare innanzitutto le mamme oggi la parte lavorano, spesso non hanno i nonni perché magari vengono da altre regioni d'Italia e quindi hanno bisogno di essere a volte tranquillizzate a dare anche più autostima alle mamme per sapere come comportarsi, capire quali sono diciamo i problemi più semplici che possono e devono risolvere loro e quando invece intervengono quelle che noi chiamiamo le cosiddette bandierine rosse per ogni problema fisico del bambino in cui è bene interpellare il pediatra a seconda poi della gravità. E ne avranno bisogno sicuramente. Ne avranno bisogno. Però questa è una funzione del pediatra, è stare dietro le madri e dare queste spiegazioni. Esistono anche dei siti, io spesso senza fare pubblicità, poi è una cosa, è una rivista che non ha pubblicità, che è un pediatra per amico, che consiglio perché dà dei consigli veramente dal periodo della gravidanza fino all'adolescenza sia alle mamme ma anche ai padri. Bene, meno male. Grazie dottore.